Ciao amici, come state? Tutto bene? Noi qui stiamo preparando tutto lo studio perché alle 11.10 arriverà Faber Moreira che è un DJ di vecchio stampo che ha battuto il suo record personale ma in realtà ha battuto il record del DJ set più lungo del mondo con 244 ore in 10 giorni. Ce l'avremo qui ospite nei nostri studi quindi io vi invito anche a seguirci magari a fare delle domande se foste interessati e poi adesso vi darete anche voi qualche delucidazione su qualche brano, su qualche musica che vi può piacere magari per prendere spunto per i nostri appuntamenti. Vi aspetto alle 11.10, non mancate. Ciao!